Una telefonata ai carabinieri per annunciare il disperato gesto che stava per compiere e un biglietto lasciato nella propria automobile per comunicare alla famiglia le motivazioni alla base di quella che stava per trasformarsi in una tragedia. Telefonata partita dal cellulare di un uomo pesarese, poco più di 60 anni e residente a Colombarone, il quale aveva deciso di farla finita. Negli attimi più vicini al triste epilogo al quale, di lì a poco, il soggetto stava per andare incontro, è fortunatamente arrivata la decisione di allertare le forze dell'ordine. Nella centrale pesarese, il carabiniere al di là della cornetta ha da subito capito la gravità di quanto stesse per accadere e la necessità di intervenire rapidamente per bloccare qualsiasi azione dell'uomo. Il primo step è stato quello di individuare il luogo esatto in cui si trovava il 60enne, con la scusa di conoscere la posizione in cui era ubicata l'auto per reperire e consegnare ai parenti il biglietto scritto dall'uomo, una pattuglia dei carabinieri di Gabicce ha prontamente raggiunto il posto indicato, ovvero la strada panoramica all'altezza di Castel di Mezzo, intercettando sia la vettura che l'uomo. Il 60enne è stato trovato con due fascette d'elettricista strette intorno al collo che gli stavano iniziando a creare difficoltà respiratorie. I militari si sono quindi lentamente avvicinati all'uomo, prima diffidente e successivamente invece disposto a ricevere il loro aiuto. Nel dialogo che ha portato i carabinieri a rimuovere e tagliare con un coltellino le fascette presenti sul collo del soggetto, quest'ultimo avrebbe raccontato le motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere tale gesto. A diverse problematiche in ambito familiare si è raggiunta di recente la perdita di lavoro pochi mesi prima della pensione. Le brutte intenzioni dell'uomo sono state quindi cancellate dal prezioso intervento dei militari, che dopo averlo aiutato lo hanno affidato ai sanitari e al ricovero ospedaliero per lo svolgimento dei controlli e delle cure previste.